Affonda un traghetto a largo delle coste occidentali del Myanmar, almeno 50 le vittime, una ventina i dispersi. Secondo fonti della polizia locale a bordo dell'imbarcazione, c'erano 209 passeggeri, 167 sono stati tratti in salvo. Al momento non si conoscono ancora con esattezza le cause dell'incidente, forse le cattive condizioni del tempo, un errore umano o la nave troppo carica.